A Massa Martana, in provincia di Perugia, si è svolta oggi, domenica 3 luglio, la 14esima edizione della Gran Fondo Martani Superbike. Una giornata calda e soleggiata ha accolto i biker giunti da tutta Italia per questo importante appuntamento Umbro, valido come prova del Challenge Nazionale Rampitec, oltre che dei circuiti regionali Umbria Marathon e Umbria Tascani. Partenza alle ore 9.30, sotto le mura di Massa Martana, per un tracciato di 51 chilometri e 1750 metri di dislivello. Subito la prima salita fa selezione, in testa si forma un gruppo con 5 atleti, ma sulla salita al Gran Premio della Montagna avviene la vera selezione, dove restano al comando Francesco Casagrande, Ciclita Dei e Alessio Agostinelli del KTM Protec. Più staccato, in terza posizione, transita Francesco Failli, Ciclita Dei. Nella discesa verso l'arrivo di Massa Martana le posizioni non cambiano e lungo le mura del centro storico si presentano in due, Alessio Agostinelli con a ruota Francesco Casagrande. Il primo ad entrare sul rettilineo d'arrivo è Alessio Agostinelli, che va a vincere con il tempo di 2 ore 19 minuti 16 secondi, lasciandosi alle spalle Francesco Casagrande, terzo posto per Francesco Failli. Per la prova femminile dopo una gara sempre al comando a vincere è la toscana Silvia Scipioni del team Ciclita Dei, seconda Sara Mazzorana, team Cingolani, terza Benedetta Toschi del team Bombardiero. Grazie. 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 Grazie a tutti